ben ritrovati in un nuovo video oggi torniamo a parlare di mobilità elettrica ma non per la recensione di un modello in particolare beh sì proverò a darvi 5 consigli preziosi per fare un acquisto sereno cioè cosa andare a guardare per acquistare una bici elettrica per la città e fare un acquisto intelligente senza sprecare soldi vediamoli se questo video dovesse piacervi mi raccomando non dimenticate un like e soprattutto iscrivetevi al nostro canale il primo consiglio spassionato che mi sento di darvi e di acquistare una bici che sia conforme alla normativa italiana per poter liberare liberamente circolare sulle nostre strade le biciclette pedalata assistita sono equiparate alle altre biciclette a livello normativo quindi non dovete rispettare delle regole aggiuntive per quanto riguarda la circolazione il casco per esempio è consigliato ma non è obbligatorio se avete una pista ciclabile è consigliato andarci insomma non potete andare nelle strade a scorrimento veloce meno che mai sulle autostrade in particolare però per quanto riguarda le biciclette a pedalata assistita queste devono avere un motore che ha una potenza nominale di massimo 250 watt poi devono avere la velocità massima dell'assistenza limitata 25 chilometri orari questo non significa che dopo i 25 chilometri orari loro cominciano a rallentare o a mettere i freni semplicemente dopo 25 chilometri orari il motore non vi aiuterà più quindi se volete andare più veloce potete ma dovete spingere con le gambe il terzo requisito è che non ci sia un acceleratore perché la bici deve essere proprio a pedalata assistita non elettrica con un acceleratore come uno scooter elettrico significa che vi darà un aiuto nella pedalata in base a quanta potenza voi andate a mettere sui pedali 7.653 cosa sono gli euro di multa che rischiate se vi fermano e vi trovano con una bici modificata o comunque non in regola con la normativa italiana questo perché le bici elettrica o pedalata assistita che non rispettano i requisiti che vi ho detto poc'anzi vengono preparati ad un ciclomotore questo significa che c'è bisogno dell'omologazione della targa del casco e dell'assicurazione è chiaro che probabilmente non soddisfierete questi requisiti per cui multa e occhio anche perché in caso di incidente se dovesse esserci dei feriti o dei danni a persone terze l'assicurazione non coprirà un ben niente quindi rischiate veramente di essere rovinati il secondo consiglio non riguarda la bicicletta in sé ma riguarda la sua provenienza tenete presente che quando vi arrivano sono premontate ma il pacco sarà bello grande e anche bello pesante meno strada fa in giro per il mondo e meglio è per due motivi il primo è che nonostante che sia in alluminio o in acciaio o in ferro è comunque un qualcosa di delicato soprattutto le ruote la trasmissione il secondo motivo è che se ad esempio la prendete dalla cina o dal regno unito potreste incorrere in dazi doganali che per una bicicletta elettrica sono veramente molto molto salati e potreste perdere tutta la convenienza di aver acquistato una bici per esempio dalla cina ci sono negozi come quello di questa bici o come altre bici che di cui abbiamo parlato all'interno del nostro canale che sono cinesi ma gli spediscono la bici dall'europa in questo caso ad esempio dalla polonia quindi ci metterà poco ad arrivare e verosimilmente sarà tutta intera inoltre dovesse esserci problemi legati al trasporto per esempio danneggiamento della merce beh non sarà così complicato e così eterno ricevere un rimborso o mandare indietro il pacco il terzo consiglio riguarda la posizione del motore ci sono bici con motore centrale cioè posto in corrispondenza del movimento centrale e bici con motore posteriore o anche bici con motore anteriore quelle con motore anteriore ve le sconsiglio categoricamente perché porteranno ad una dinamica di guida veramente molto scomoda non delle migliori in più se hanno la batteria posizionata qua davanti è veramente un incubo la scelta migliore in assoluto sarebbe quella di avere un motore centrale con la batteria integrata nel telaio questo perché le masse il peso più importante sono concentrate al centro della bicicletta e questo rende il mezzo molto più maneggevole molto più pratico e facile da pedalare anche con livelli di assistenza bassa un'alternativa può essere la il motore sulla ruota posteriore tenete presente che il motore sulla ruota posteriore è meno efficiente quindi vi permetterà di avere meno autonomia e tendenzialmente meno potenza quindi io ve lo posso consigliare se scegliete una bici leggera come potrebbe essere questa che pesa appena 18 kg ma se prendete una bici estremamente pesante grossa magari una fat bike con le ruote estremamente larghe e quindi anche molto pesante io vi consiglio spassionatamente una bici con motore centrale e il discorso vale anche per la batteria se sono integrate nel telaio se sono posizionati in questa zona ottimo dinamica di guida efficace se sono nella parte posteriore va ancora bene un po come avere un peso sempre attaccato questo diminuisce un po l'efficienza però è ancora accettabile se sono posizionate davanti come vi ho detto lasciate perdere il quarto consiglio che posso darvi riguarda il peso della bici fate molta attenzione perché una bici bella tamarra una fat bike potrebbe essere interessante potrebbe essere magari anche più comodo da utilizzare in città ma il peso quando è sopra i 30 kg vuol dire che la bici è un vero pachiderma da spostare e da maneggiare soprattutto nel traffico magari nelle strade strette magari in mezzo a stradine tra i san pietrini e le rotaie del tram insomma una bici più leggera meglio è sempre tenete anche presente che soprattutto dal mercato cinese vengono proposte molte bici pieghevoli che però se andate a controllare il peso stanno attorno ai 25 30 kg ecco saranno anche pieghevoli ma con 25 30 kg poi non le muoverete più quindi occhio un ottimo peso per una bici elettrica potrebbe essere questo 18 kg ma anche fino ai 24 25 kg con motore centrale e batteria generosa sono ottimi acquisti diffidate dalle bici troppo pesanti troppo massicce perché magari potrebbero sembrare fighe ma poi sono veramente poco utilizzabili l'ultimo consiglio che voglio darvi il quinto riguarda la scelta dei componenti che deve essere fatta con la testa molto meglio una bici ben allestita con dei buoni componenti magari un pochetto più pesante magari con un telaio un po meno rifinito rispetto a una bici magari fighissima da vedere ma con dei componenti esotici mai sentiti occhio perché una bicicletta è comunque uno di quei mezzi che ha bisogno poi di manutenzione nel tempo se voi acquistate una bici con una trasmissione che sia shimano che sia sram che sia el ciuse cinese o senza tutti i negozi di bici meccanici di bici sapranno metterci le mani anche voi troverete molti tutorial su internet degli aiuti per andare a sistemare eventuali problematiche oltre che la possibilità di riperire dei pezzi di ricambio se invece trovate una bici con dei componenti veramente sconosciuti rischiate veramente di doverla buttare nel momento in cui qualcosa si romperà e qualcosa è normale che si rompa prima o poi in una bici che è soggetta a molte sollecitazioni una cosa che riguarda gli ammortizzatori è questa non fossilizzatevi sull'idea di avere degli ammortizzatori soprattutto quello posteriore perché sono organi in movimento l'ammortizzatore posteriore soprattutto ha bisogno poi di un carro che possa muoversi quindi ci sono dei cuscinetti ci sono delle parti che sono soggette ad uvura ad allentamento delle viti anche girando in città non è una grandissima idea la forcella ammortizzata sull'anteriore può essere una buona comodità ma anche quella si usurerà più facilmente rispetto ad una forcella rigida come questa che magari non sarà super confortevole ma tenete presente che potete agire ad esempio sugli pneumatici scegliendoli un pochino più grandi e girando con pressioni leggermente inferiori per avere un comfort aggiuntivo infine per quanto riguarda le biciclette elettriche pedalate assistite i due componenti fondamentali sono la batteria e il motore non mi sento di darvi dei valori di riferimento è chiaro che più la batteria è grande e più l'autonomia sarà maggiore più il motore potente più la bici vi permetterà di muovervi anche se siete pesanti anche se siete in salita però molto dipende anche dal peso della bici ad esempio questa è una bici con un motore relativamente poco potente una batteria relativamente poco capiente ma che ha un'autonomia molto migliore rispetto ad altre bici mastodontiche che hanno tutto maxato quindi ai limiti di legge per quanto riguarda il motore e magari una batteria che sia da 700 da 850 watt o 960 watt oltretutto a mio parere non dovete fossilizzarvi troppo sull'autonomia perché alla fine se una bici la utilizzate in città verosimilmente non dovete fare degli spostamenti veramente enormi e ricaricarla ogni tanto non è poi questo sacrificio visto che comunque mediamente ci mettono dalle 3 alle 5 ore per ricaricarsi completamente di notte potete farlo e tra l'altro molto spesso le batterie si possono staccare dal telaio e quindi potete caricarle direttamente a casa vostra occhio a questo aspetto perché per esempio una bici come questa la batteria non è removibile facilmente bisogna andare a svitare tante viti e quindi tendenzialmente poi non lo andrete a fare quindi dovete magari avere un posto sicuro dove poterla lasciare di notte per caricarla ebbene questo è tutto grazie per la pazienza spero che questi consigli vi siano utili se avete altre domande qualunque informazioni sono sempre a disposizione qua sotto nei commenti vi ricordo se vi è piaciuto il video di lasciare un bel like ed iscrivervi al nostro canale io sono Matteo noi ci vediamo in un prossimo video ciao